Alcuni giorni fa la riparazione dei corpi illuminanti guasti dove si è potuto intervenire solo a seguito del potenziamento della cabina E nel servizio eseguito dalla stessa società elettrica. Ora nella galleria Santi Filippo e Giacomo, lungo lo scorrimento veloce Marsale Aeroporto, l'ultimo passo riguarda il ripristino dei limitatori di corsia. Viene così rispettato il cronoprogramma stabilito qualche settimana fa dopo il sopralluogo effettuato dal sindaco Massimo Grillo e dall'assessore Ivan Gerardi assieme al comandante della polizia municipale, al dirigente del settore infrastrutture e servizi, nonché funzionali e tecnici comunali. Al fine di completare la messa in sicurezza della galleria sarà pertanto necessario chiuderla al transito veicolare per circa 48 ore, il tempo necessario per collocare limitatori divelti dalle auto, alcune imprudentemente in fase di sorpasso. In particolare con provvedimento della polizia municipale è stato disposto che la galleria Santi Filippo e Giacomo la prossima settimana resterà chiusa alla circolazione dalle 8 del 1 marzo alle 9 del 3 marzo. Resta percorribile a senso unico di marcia il primo tratto dello scorrimento veloce compreso tra l'ingresso di via Salemi e il rifornimento di carburanti accessibile e fruibile con direzione consentita verso l'impianto stesso. Inoltre ai veicoli provenienti dal lato Birgi è imposta l'uscita obbligatoria verso la statale 115 in Contrada Bosco. Contestualmente chi si mette sullo scorrimento veloce dallo stesso ingresso di Contrada Bosco è obbligato a proseguire in direzione Birgi. Ci sarà l'apposita segnaletica.